Con la pia e il dolore e la tua croce ci salverà. Ti seguirò e la pia e la gloria e la gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la gratta e la pace di Dio vostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia un di voi, un di voi, un di voi, un di voi, fratelli e sorelle. Nella celebrazione dell'Eucaristia, sempre ci rende presenti all'ultima cena di Gesù, ma oggi in modo del tutto speciale. Per accogliere con tutto la gratta di questo giorno, invochiamo il perdono dei nostri peccati. Signore, che raduni i tuoi discepoli attorno alla messa del tuo corpo e del tuo sangue, abbinti e dà il tuo corpo. Signore, che ti sta inclinando per lavare i piedi i tuoi discepoli, abbinti e dà il tuo corpo. Signore, che ti sta inclinando per lavare i tuoi discepoli, abbinti e dà il tuo corpo. Dio, a Dio potente, abbia misericordia, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Con i campi della gloria e con i suono delle campane, iniziamo questo momento comunitario e di questo figlio santo del Signore. Accompagnando, attraverso l'Eucaristia, la sua passione per vivere e conviene tutta la sua risurrezione. dell'Eucaristia, la sua passione per vivere e con i suono delle campane. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.